Eccce a tutti ragazzi, io sono Credox ed eccoci qua in un video che aspettavo di fare da moltissimo tempo Il video sul mio setup da gaming pover YouTube Edition Prima di tutto volevo fare un disclaimer per tutti coloro che mi bersaglieranno dopo aver visto tutto ciò Che va dal PC da 8.750€, dal monitor 4K e da tutto il resto Volevo solo dirvi a tutti voi che mi commenterete qui sotto, tutto quello che vedete è stato grazie ai guadagni di YouTube Infatti come potete vedere sono di 4... Aspetta, aspettate un attimo, aspetta un attimo, perfetto Stavo dicendo, i miei guadagni su YouTube di 4.000€ Quindi questi sono tutti soldi sudati e meritati E mi raccomando, iscrivetevi per vedere altra roba così ragazzi Perché di setup così fighi se ne trovano ben pochi in giro Quindi mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella E lasciate like, soprattutto, se vi piace questa mia configurazione Detto ciò, cominciamo Questa è una scrivania comprata dal mio cugino ricco di 1 metro per 40 È veramente bella e sostiene tutto ciò che uso per fare i miei video Eccovi qua la mia fantastica serie da gaming Infatti è fantastico poi il suo nome Che ora vi dirò Tek Tek poltrona sedia direzionale ed ufficio Razer classe di russo Disponibili in diversi colori tra parentesi bianco Beh, come potete vedere pure dal nome c'è una certa alcuna di dettagli Ed è una sedia molto bella Ruota, sale e scende Cioè, proprio ragazzi Veramente qualità di russo Qua cominciamo ad entrare nel bello del setup Questo qua che vedete è il mio monitor dell'HP da 16 noni in full HD È meraviglioso e ve lo consiglio se volete fare una configurazione degno di nota Che faccia invidia a qualsiasi youtuber italiano Allora, qui ne abbiamo diverse Tra cui le cassa... No, cassa non... Le cuffie, le cuffie Allora, le cuffie che ho sono le Sharkoon B1 E sono delle ottime cuffie, veramente Il suono è fantastico e per giocare sono il top del top Come mouse ho lo Sharkoon Sharkforce Che è pure questo bellissimo mouse comprato da poco E ho fatto pure la recensione da poco Infatti, se ve la siete persa Trovate sia la recensione delle cuffie che del mouse Qui nelle schede che ora appariranno E finalmente ragazzi, eccoci nella parte migliore del setup Il mio computer Io lo chiamo gioiellino Perché è veramente qualcosa di spettacolare Esso è composto da un potentissimo Ryzen 7 Accoppiato a una scheda video La più potente che c'è sul mercato Cioè la NVIDIA 2080 Ti Perché ragazzi, io ho bisogno di velocità Devo editare i video Quindi ho bisogno Che sia tutto veloce e immediato Se non la vedete è perché ho messo una custom Che la rende invisibile Poi in accoppiata ho 128 GB di RAM 4 TB di SSD E 16 TB di hard disk Quindi veramente top of the tops Qui ovviamente rientriamo nella zona preferita da tutti i gamer italiani Cioè quella dei LAN Perché un setup come si deve Non può non avere LED Ovviamente tutta questa bellezza di setup Ha bisogno di illuminazione Ed ecco a voi questi miei LED Che sono attaccati alla schivanie Così da dare un effetto meraviglioso Di diffusione della luce Bene ragazzi Questo è il video sul mio setup Spero vi sia piaciuto Se volete altri video più dettagliati Mi raccomando Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Per non perdervi tutti i miei prossimi video Lasciate un enorme like Per questo video bomb Che è veramente super mega fantastico È stato il mio parere Perché è il video sulla mia configurazione Sul mio setup Per oggi è tutto E ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti